Ecco la partitella in famiglia dei nostri giovanissimi in classifica nel loro girone del campionato provinciale, girone unico di Chieti, in classifica abbiamo anche il capo cannoniere del girone di Mata con 16 gol, 16 leti a suo attivo, ecco i ragazzi che si allenano sotto lo sguardo vigile di Mistra, Gabriele di Felice, ecco i nostri ragazzi, ecco giocano con grinta, ecco ha segnato Michele, ha segnato Michele Daniello, Michele Daniello, a rete!